bella a tutti ragazzi qui è teddy e benvenuti ad un nuovo video su youtube lo so è molto che manco tantissimo per chi mi sta seguendo su twitch recentemente sa i motivi di questa assenza mi sono concentrato moltissimo troppo anche forse per certi versi sul lavoro e quindi ho lasciato un attimo in disparte sia twitch che youtube adesso ho un orario fisso lunedì venerdì sabato e domenica sono a casa sempre quindi adesso che ho trovato un pochino più di stabilità sia a livello lavorativo che a livello appunto personale posso tornare finalmente ad avere una schedule un pochino fissa ed è quello che sto facendo recentemente su twitch trovate tutti i link in descrizione come solito però sono qua a parlare della formula 1 perché è un po che mancano le analisi come vi dicevo solo recentemente ho avuto sabato e domenica libri mentre invece prima lavoravo anche sabato e domenica dipendeva un po dei turni che avevo però chiaramente diventava un po difficile seguire la formula 1 durante l'orario di lavoro ecco ovviamente quindi è chiaro che le ultime gare purtroppo io la domenica ho sempre lavorato in tutte le gare precedenti e quindi non ho potuto guardarle bene ecco di conseguenza non ho fatto video reaction per questo motivo oggi sono tornato a vedere la formula 1 dopo un po di tempo e purtroppo oggi è andata non male non peggio del previsto ma veramente un tracollo totale a livello di affidabilità da parte della ferrari ora io sto già leggendo verstappen un inculato verstappen vincerà pure quest'anno perché c'ha culo ricordo che verstappen in bahrain e in australia ha avuto lo stesso problema di leclerc a barcellona e a bacu quindi due motori a testa per entrambi zero punti in due gare per entrambi e quindi non si può parlare di fortuna red bull perché le sfige red bull sono arrivate tante quante le sfige ferrari il problema principale è che la ferrari non è stata abbastanza cattiva a livello agonistico quando si potevano portare a casa più punti di quelli che sono portati e la red bull con cattiveria e assist della ferrari parlando di monte carlo ha fatto punti che non doveva fare perché a monte carlo la ferrari girava a mezzo secondo otto decimi più forte al giro di red bull e quindi avrebbe doppiato tutti non puoi fare è vero le condizioni meteo e tutto quello che volete ma non puoi fare secondo e quarto a monte carlo quando parti primo e secondo almeno uno deve vincere almeno sainz vi deve vincere almeno se popolo non deve vincere leclerc almeno fate vincere sainz non è successo neanche quello quindi la vera problematica attualmente parlando della ferrari è che secondo me non c'è abbastanza cattiveria agonistica all'interno della squadra per potersi rialzare da questa situazione di impasse che è accaduta da oramai da un paio di gare da due tre gare barcellona passo gara fino al venerdì imbarazzante si è messi malissimo red bull c doppia c tripla c quadrupla leclerc stava dominando la gara in maniera imbarazzante e ha rotto il motore sfiga a monte carlo lasciamo perdere non voglio neanche entrare nel merito oggi red bull era superiore almeno con gomma media oggi non c'era storia è vero che verstappen non era ancora passato sulle clerk in gara però insomma è vero allora è vero che il distacco tra perez e le clerk non variava rimaneva due secondi fisso quindi dire che la tribù era superiore oggi forse non è così vero certo sainz si era preso quattro secondi da da verstappen leclerc e perez incommentabile come al solito lasciamo stare che ha avuto il problema i freni ok quella è sfiga non si può dire niente però sainz continua a fare troppa 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 fatica in piste dove la ferrari non è un secondo più veloce al giro come monte carlo monte carlo era 1 2 perché la ferrari era talmente superiore che probabilmente anche la tifi avrebbe fatto secondo però in piste dove il pilota deve metterci quel qualcosa in più parlo di miami dove le clerk e verstappen erano pari parlo di oggi dove le clerk per tenere dietro verstappen stava facendo dei numeri assurdi parlo di barcellona dove si è insabbiato come un minchione quando c'è da mettere quel qualcosa in più a livello di cattiveria sainz sta peccando troppo e perché dico questo perché se andiamo a vedere perez lui le gare le porta a termine e porta sempre punti e sempre podio di riffa o di raffa perez tranne barendo ve gli è esploso la macchina ma di riffa o di raffa perez la porta a casa sempre comunque ed è sempre podio e questo alla lunga andare soprattutto perché le gare sono così sono altalenanti a livello di risultati avere una certezza a livello di podio non solo a livello costruttori ma anche a livello di portare via punti al tuo diretto concorrente per il mondiale è un grande vantaggio se verstappen sa che perc uno lo fanno spostare per farlo passare due fa comunque sempre podio la gara in cui a ferrari gira male ed è successo e red bull fa doppietta ed è successo le clerk perde un sacco di punti da verstappen la ferrari invece non ha questo lusso purtroppo perché perché sainz non riesce a trovare quella costanza di rendimento che permetterebbe di avere una sicurezza non solo a livello di team ma anche a livello di le clerk di poter avere un po le spalle coperte quando si tratta di portarvi a punti a verstappen perché va bene che le clerk è un mostro e continua a fare il mostro in qualifica e penso che se va avanti così probabilmente sarà il miglior il miglior diciamo pilota della storia in qualifica perché siamo a 6 pole position su 7 8 gare una roba assurda ieri ha tolto mezzo secondo nel secondo settore in un colpo solo ha dato tre decimi al secondo in una pista dove poi red bull si è dimostrata superiore cioè le clerk sul giro secco sta diventando sicuramente il miglior pilota di sempre a questo punto perché veramente fa di quelle robe vi ricordate la pole a singapore quel controsterzo al ponte letteralmente nello stretto una roba cioè e ha fatto la pole nonostante quell'errore per me le clerk ad oggi sul giro secco è il miglior pilota della storia sul giro secco è a livello di qualifica se se ci invadono gli alieni ok e possiamo scegliere tra schumacher emilton schumacher prime gli alieni ci riesumano schumacher prime senna alonso cioè ce li danno tutti al top io piglio le clerk uno contro uno un giro di qualifica per salvare l'umanità io piglio le clerk ad oggi comunque a livello di sicurezza non solo a livello di team ma anche a livello proprio di le clerk cioè è anche a livello di pilota è un pochino più tranquillo quando sai che hai comunque una spalla un secondo pilota che il suo lo fa sempre hai comunque una certa tranquillità no cioè sai che ok io faccio il mio però so che il mio secondo pilota in questo caso science mi porta via punti fa podio mandiamo la red bull lontana nel costruttori cioè riusciamo ad avere una garanzia purtroppo non sta accadendo questa cosa ed è un grossissimo peccato perché io capisco che binotto all'inizio dell'anno dice dobbiamo essere competitivi e non competere per il titolo però quando tu vedi che competi per il titolo devi alzare il tiro non devi ma no ma l'obiettivo è sempre quello adesso non pensiamo al mondiale che dichiarazioni sono sei la ferrari la ferrari appena appena dal dal barain doppietta ferrari perché esploso verstappen vabbè doppietta ferrari tu devi andare ai microfoni di sky o di chi cazzo di emittente televisiva e dire oggi lottiamo per il titolo oggi lottiamo siamo il miglior team in circolazione lottiamo per il titolo siamo una squadra di cannibali la ferrari sta passando come una squadra del cazzo pure quest'anno perché non ha mire espansionistiche tra virgolette cioè non ha la cattiveria agonistica che c'era ai tempi di brown e todd perché brown e todd dopo la gara del barain vanno ai microfoni e dicono quest'anno non ce n'è per nessuno quest'anno non ce n'è per nessuno non ma no ma siamo competitivi ma no adesso non facciamo proclami e no devi alzare il tiro devi tenere alta la concentrazione devi tenerla alta proprio devi mettere pressione ma no lascia perdere l'obiettivo è competitivo ci vuole qualcuno nell'ambiente ferrari non nel muretto nell'ambiente ferrari che tenga alta la cattiveria agonistica la fame di vittoria no la ferrari ha perso la fame di vittoria da tanti anni perché dal 2007 che non vince un mondiale ci ha provato più volte purtroppo ha scelto il pilota sbagliato che va muro con 20 secondi di vantaggio sul diretto rivale quando il mondiale era quasi in tasca però lasciando perdere questo manca la cattiveria manca quell'uomo si parla sempre del di agnelli si ciao non agnelli di enzo ferrari non agnelli di enzo ferrari no si parla di quella figura imperiale quella che ha un certo come dire una certa presenza no a livello della squadra che non deve neanche parlare lui si presenta al box e tutti capiscono quello che deve dire ecco manca quella presenza manca quella figura di autorità manca quella figura autoritaria che senza neanche aprire bocca si presenta o binotto legge il numero di telefono ok binotto legge il numero di telefono e sa già quello che deve fare sa già quello che gli verrà detto sa già di tutte le cazziate che dovrà prendersi perché alla fine binotto volente o nolente è quello che si piglia le cazziate perché è lui che gestisce il team il team principal no quindi quando qualcosa va errato come oggi è binotto che riceve le chiamate poi giustamente o non giustamente oggi sono esplose due macchine va bene ok a livello di affidabilità ci può stare non si può pensare che in 22 gare le macchine non ci sono mai errori a livello a livello tecnico a livello di appunto di rotture e quant'altro ci si mette sempre in conto che almeno due tre gare all'anno la macchina muore a meno che non sei mercedes che sei talmente superiore che vai al 50 per cento della potenza e dai un secondo a tutti quest'anno non è così perché comunque quest'anno con red bull devi devi giocartela devi tirare devi costantemente essere al limite ed è un purtroppo un limite che la ferrari sta dimostrando non solo a livello di piloti pilota secondario perché onestamente parliamoci chiaro le clerk cioè io penso che più di così viste le gare non potesse fare forse e dico forse a miami si poteva fare qualcosina di più ma la red bull con gomma media era troppo superiore poi con gomma bianca invece la questione era molto più aperta e mancato quella velocità di punta a miami se la ferrari avesse avuto 5 6 chilometri orari in più facciamo 3 4 chilometri orari a miami le clerk vinceva la gara perché col drs sarebbe stato più vicino a verstappen nella parte finale di gara purtroppo mancava quella velocità di punta che a bacco in realtà oggi sembrava averla a ferrari perché comunque verstappen vabbè si avvicinava comunque perché era 10 15 chilometri orari di più però non perdeva così tanto se vi ricordate jedda a jedda era una roba vergognosa cioè sembrava una formula 3 contro una formula 1 a jedda oggi tutto sommato è vero che le clerk usciva meglio dall'ultima curva quindi guadagnava quel decimino ok però è un rettilineo di un chilometro col drs di 800 metri verstappen tra un po' perdeva le coperture della macchina talmente andava veloce la red bull ovviamente con la power unit attuale perché sono più lente rispetto a qualche anno fa le macchine girano un pochino più piano però la ferrari oggi dimostrava di avere una buona velocità di punta tutto sommato senza drs non sfigurava rispetto ad altre gare quindi la macchina c'è comunque rimane competitiva non è un problema di competitività la ferrari non è che adesso non è più competitiva prende mezzo secondo al giro la ferrari c'è manca quel guizzo manca quell'autorità manca scusate la se sono nell'oscurità accendo la luce un attimo manca quell'autorità manca quella cattiveria agonistica poi certo uno può dirmi sì ma la cattiveria agonistica non ti fa non rompere la macchina cioè se la macchina si rompe la macchina si rompe fine non è che perché uno c'ha la cazzimma allora la macchina si rimette a posto ovviamente no ma il mio discorso è un discorso a livello psicologico io ho visto nelle ultime gare soprattutto dopo monte carlo in particolar modo una un piegamento a livello emozionale anche a baculo visto perché di creazione di binotto mi danno sempre idea di una persona che non vuole sbilanciarsi se tu sei la ferrari e hai la macchina migliore dell'otto insieme a red bull e hai il miglior pilota in griglia perché voi potete raccontarmi quello che volete ma quello che fa le clerk non lo fa nemmeno verstappen ok quello che fa le clerk non lo fa verstappen mi dispiace poi verstappen è un grande pilota assolutamente nulla da dire ma tra le clerk e verstappen io prendo le clerk tutta la vita ma ma proprio tutta la vita manca quella cattiveria agonistica da trasmettere alla squadra e ai piloti perché è vero che le clerk ci prova ma secondo me non non ha un qualcuno con la sua stessa fame di vittoria perché le clerk vuole vincere si vede lontano un miglio che vuole vincere e ci mancherebbe altro qualcuno può dirmi certamente ci mancherebbe ma manca quella figura che lo spalleggia da questo punto di vista a livello di gare c'è poco da dire barcellona le clerk stava dominando esplosa la macchina monte carlo lasciamo stare oggi con gomma bianca giravano un secondo più forte le redbull è vero però le clerk doveva gestire la gomma perché probabilmente non si sarebbe più fermato quindi a fine gara si sarebbe visto il vero passo contro il vero passo magari c'era una safety car che rimescolava tutto questo non si sa oggi però redbull era superiore mettiamola così diciamo che in condizioni ormai di gara oggi sarebbe stato comunque doppia da redbull ma meno le clerk terzo perché comunque le redbull arrivavano e col drs prima o poi sarebbero passate però a parte questo cioè la ferrari sta mangiandosi le mani per punti lasciati per strada le clerk caimola si è fatto ingolosire dalla possibilità di andare a prendere perez e si è girato quello è un errore del pilota che ci sta per foga ma lì puoi anche giustificarlo perché aveva 50 60 punti mangiando su verstappen quindi puoi anche giustificare il fatto che lui avesse comunque voglia di andare a caccia e anche quell'errore comunque gli ha fatto perdere punti ma non così tanti ok però manca un secondo pilota che dia garanzia e soprattutto manca adesso soprattutto dopo oggi mi aspetto che le dichiarazioni cambino e inizino ad essere un pochino più consone ad una squadra che deve lottare per il titolo che ambisce a lottare per il titolo e che soprattutto è obbligata a lottare per il titolo perché la sua storia lo impone perché il suo pilota principale glielo impone altrimenti saluta e se ne va veramente in mercedes con russell visto che hamilton probabilmente darà appenderà il casco al chiodo dopo sta stagione visto anche come sta andando in difficoltà clamorosa lasciamo stare che russell ha un culo assurdo che gli va sempre tutto bene fa podio sempre in qualche modo però a livello proprio di velocità russell continua ad essere più veloce in qualifica più veloce in gara di hamilton a pari macchina russell continua a dargli mezzo secondo ogni gara sul giro e in qualifica quindi ecco io adesso mi aspetto in canada canada è una pista ad alto carico aerodinamico se la ferrari non fa doppietta con una macchina ad alto carico aerodinamico e gira almeno mezzo secondo più forte di redbull che è una macchina a quanto pare più veloce sul dritto ma sembra quantomeno che abbia un pochino più di difficoltà nel misto io smetto di guardare la formula 1 io smetto di guardare per quest'anno poi se la ferrari anche in canada ha problemi tecnici quello è un altro discorso amen però se a livello di gara normale senza cazzate senza cambi gomme pioggia sole vento grandine gara normale inizia col sole finisce col sole e la ferrari non fa doppietta in canada io non dico campionato finito perché comunque manca ancora continuano ad aggiungere gare intanto anche durante la stagione mettono altre quindi se arriveremo a 37 gran premi non finirà più sto campionato va andrà puntate sarà tipo a stagioni come come i football come come nba cioè a stagione va non finisce mai ma continua a mettere content fino all'anno prossimo quindi gare fino all'anno prossimo a rotazione non dico campionato finito però cioè ci sono state parecchie piste dove dovevi portare punti a casa e non sono arrivati e questo è un brutto segno perché red bull ha portato via punti spesso in piste dove non doveva portarvi a punti se la ferrari fosse stata più aggressiva a livello di mentalità questo non sarebbe successo fermo restando ripeto che red bull e ferrari si pareggiano a livello di prestazioni e quindi la differenza cosa la fanno i piloti e il muretto la ferrari ha un pilota in meno perché perez è vero lo fanno scansare tutto quello che volete ma perez fa terzo punto e a livello di muretto red bull non sbaglia una strategia red bull non sbaglia mai a livello di strategia ferrari non ne azzecca una da anni secoli cioè da veramente diventa preoccupante diventa preoccupante perché è un grande peccato perché comunque dopo tanti anni di sofferenza dopo anni che ci siamo andati vicini tra alonso con vettel merdel con emilton e chi più ne ha più ne metta dopo due tre anni di lasciamo perdere meglio spararsi nei coglioni rivedere una macchina così veloce competitiva con un pilota secondo me da top 5 della storia alla fine della sua carriera leclerc sarà in lizza per essere un top 5 della storia formula 1 della formula 1 vederlo non vincere un po' per sfighe a livello tecnico ma ci stanno le ha avute anche per stappi ma soprattutto perché la ferrari li gioca contro e perché il suo compagno di squadra decide di continuare ad andare a muro insabbiarsi non finire una gara continuare a sbagliare passo gara lento e chi più ne ha più ne metta purtroppo dà una sensazione un po' di peccato ecco ti viene da dire veramente che c'è perché poi torniamo l'anno prossimo sì ma poi tanto cambieranno i regolamenti quindi che ne sai che fra due anni non torniamo a fare schifo cioè sono troppo incognite bisognerebbe vivere un po' col carpe diem quindi quest'anno siamo competitivi sì bene all in quest'anno all in quest'anno poi quando cambieranno i regolamenti cazzi mazzi culi e cazzi vedremo che cazzo succede ma quest'anno non c'è nessuna scusa per non portare il mondiale all'ultima gara non c'è nessuna scusa per non portarlo in brasilia a budabido e cazzo corale l'ultima gara punto a punto con verstappen non c'è alcuna scusa quindi mi aspetto che adesso qualcuno dell'upper management con un pochino di credibilità faccia una riunione con chi conta anche con i piloti e dica ok allora si resetta tutto da zero dal cara da in poi si torna a essere aggressivi dobbiamo essere aggressivi dobbiamo essere cannibali dobbiamo ragionare come la ferrari dobbiamo fare strategie sperando come la red bull dovrebbe dire e soprattutto dobbiamo dare ai piloti una macchina affidabile da mettere in pista per fare doppiette poi science non la fa comunque però lo sfogo l'iper sfogo definitivo no clickbait di chi sapete voi deve essere questo ok quindi a livello di pista non c'è secondo me molto da dire a livello di gare perché comunque tra sfighe e muretti lasciamo perdere ma la macchina c'è il potenziale è davanti agli occhi in qualifica continuiamo a essere imbattibili e questo è assodato leclerc è imbattibile in qualifica manca quella costanza in gara di rendimento soprattutto con gomma media gomma media red bull continua ad essere più veloce gomma bianca continua la ferrari ad essere più performante fortunatamente quest'anno pare che la gomma bianca stia venendo utilizzata abbastanza si preferisca fare una sosta quindi almeno da questo punto di vista anche oggi era una sosta la gara quindi almeno da questo punto di vista pare che la ferrari possa giocarsi con la gomma bianca però serve un cambiamento di mentalità serve qualcuno che dia una scossa a livello emotivo a questo mortorio che si è venuto a creare dopo monte carlo ha ragione aggiungerei ma adesso dopo il tracollo di oggi è tempo di voltare pagina ci mettiamo ci beviamo un caffè tutti quanti ci sediamo un tavolo e ripartiamo da capo rivediamo la macchina vediamo cosa si può migliorare cosa non si può migliorare è comunque il pensiero normale sono d'accordo ma dipende come le fai le cose se le fai con voglia o senza voglia adesso la ferrari è dietro l'eclare che a meno 30 a meno 40 si è ribaltata la situazione cheat rispetto alle prime tre gare adesso bisogna rimboccarsi le maniche e darci dentro speriamo che sia il caso canada e le prossime piste il campionato non è finito perché non è finito verstappen l'ha dimostrato dopo le prime tre gare 2-0 tra australia e bahrain il campionato non è finito guai a darlo per finito ma sicuramente le due batoste recenti ferrari indirizzano verso red bull spero con tutto il cuore che sainz trovi un modo qualsiasi per trovare quei due tre decimi che lo mettono davanti a perez e diano sicurezza alla ferrari anche da quel punto di vista e anche alle clerk e riapriamo sto cazzo di campionato non è finita per me non è finita guai a fare il de profundis contro le clerk in particolar modo la macchina c'è lui c'è mentalmente nonostante tutto perché dopo monte carlo mi sarei ritirato io dopo la figuraccia di monte carlo le clerk ha avuto il coraggio di presentarsi a baku e di farla pole position alla pole position della madonna però adesso è tempo di dare una sferzata di mentalità a questa squadra servirebbe un un uomo spogliatoio chiamiamolo stile nba un uomo spogliatoio ok oppure servirebbe pat riley come presidente che neanche parlando che senza parlare faccia capire com'è la situazione servirebbe questo non arriverà mai nessun consapevole però servirebbe questo adesso vediamo canada come va fatemi sapere la vostra sulle ultime gare tra barcellona imola monte carlo insomma tutte le gare che non ho commentato ripeto a livello di a livello di gare secondo me c'è poco da dire stanno sempre lì red bull contro ferrari una rinascita mercedes sicuramente un abisso mclaren di nuovo un alpine che secondo me sta un po' deludendo le attese devo essere onesto però manca qualcosa manca quel uno per far 31 anche quest'anno ed è un peccato porca puttana perché almeno se hai la macchina come l'anno scorso che è piantata almeno tarrei dice vabbè quest'anno facciamo schifo affanculo facciamo ridere pazienza pensiamo all'anno prossimo ma quando arrivi a giocarti il mondiale così e lo metti praticamente tu in mano agli altri in un modo o nell'altro ti girano un po' i coglioni quindi ecco dai adesso pensiamo al canada fatemi sapere cosa ne pensate allora di queste ultime gare di come avete visto le clerk merdainz merstappen sborris chi più ne ha più ne metta io vi ringrazio vi saluto ci vediamo al prossimo video grazie grazie